Marina Ripa di Meana e la giornalista Gabriella Mecucci sono le autrici del libro Virginia Agnelli, madre e farfalla, biografia di una delle donne più affascinanti ed in vista dell'Italia dei primi del Novecento. Il ritratto di Virginia Agnelli è stato già tratteggiato nel libro Vestivamo alla Marinala della figlia Susanna Agnelli. Che differenza c'è fra la Virginia raccontata nel suo libro e quella che emerge dalle pagine di Susanna Agnelli? La differenza dunque, mentre Susanna Agnelli di sua madre ha raccontato soprattutto le parti intimiste, la parte, il suo rapporto con lei, il rapporto e il libro è principalmente naturalmente il racconto della vita di Susanna, di Virginia c'è appena qualcosa tratteggiato naturalmente. Il libro nostro Virginia Agnelli è al contrario tutta la vita di Virginia con i suoi figli, con i figli che avrà e molto della sua vita con la sua madre. Lei aveva una mamma che era un tipo specialissimo, lei nasce principessa a Bourbon del Monte, figlia di un'americana bizzarra, originale, molto curiosa, molto bizzarra, per cui è la storia di Virginia tutto tondo, da quando nasce, nasce a Palazzo Barberini, viene fatto il suo battesimo e portata al battesimo in un cocchio d'oro, a tutta la sua vita, i suoi sette figli, fino alla morte che arriva prematuramente, perché lei muore a 47 anni. È l'unica biografia di Virginia Agnelli che esiste? È l'unica, possiamo vantare l'unica biografia di Virginia Agnelli, perché è assolutamente una donna grandissima, specialissima, bellissima e affascinante, ma completamente dimenticata, ossia non dimenticata, occultata dai figli, volutamente occultata. Ecco, perché occultata dai figli? Volutamente occultata, non si saprà mai la vera ragione, ma se si pensa però che Gianni Agnelli, al libro di Susanna, sorella, vestivamo alla marinara, ha comprato i diritti, ha ricomprato i diritti, perché il film non venisse fatto, era tutto pronto, perché Mauro Bolognini facesse il film, e è stato ricomprato da Gianni Agnelli, il film non si è mai fatto, si spiega com'è la linea degli Agnelli. Ma per una sorta di protezione di questa figura materna? Non si è mai saputo, le interpretazioni sono state tante, potrebbe essere una sorta di protezione, visto che la madre, si dirà nel libro, è una donna che ha un notevole libertinaggio, una donna frivola, libertina, intraprendente, che per i tempi era questo suo amore per Curzio Malaparte, è stato osteggiato tutta la vita dal suo suocero, appunto dal fondatore della Fiat, Giovanni Agnelli, e lei ha avuto un alterco di tutta la vita con il suo suocero, e poi potrebbe essere perché Gianni in fondo la famiglia ha tenuto a incoronare leader della famiglia Gianni, Gianni è stato quello cui tutto è stato messo, tutto è ruotato, che è stato Gianni, ed è stato creato con lui un mito, e voi sapete che i miti non hanno parenti, forse per questo anche, potrebbero anche questo. Cosa mira invece di Virginia e cosa di Virginia ritrova in se stessa? Ma non so, ogni tanto mi viene fatta questa domanda, io veramente ritrovo lo spirito combattivo, ecco, spirito combattivo come lei tiene testa a questo suocero, sicuramente se avessi avuto un suocero di quel genere, che qualsiasi donna si sarebbe fatta intimidire, probabilmente anche io non mi sarei fatta intimidire, ma non sono molte le donne che hanno questo spirito combattivo, anzi che si realizzano nel combattimento, questa è una corda che io ho, sicuramente. Non ho, come lei, questa vocazione alla maternità, lei ha fatto sette figli, io ne ho fatto una sola, lei ha avuto dei rapporti con i figli idilliaci, io ho una figlia sola con cui il mio rapporto purtroppo si sa non è così idilliaco, insomma ci sono varie cose che sono completamente, però sono sempre, più mi sono addentrata nel scoprire, e con la mia amica giornalista Gabriella Mecucci, che ha trovato in archivio tanti pezzi d'appoggio, noi siamo rimaste affascinate da questa figura, perché è un personaggio assolutamente affascinante ed è un personaggio di cui mi è piaciuto particolarmente questa doppiezza, ossia di donna in apparenza bellissima, frivola, leggera, mondana, sarà stata la figura più mondana, più fotografata di quel periodo, immagino, no? Però nello stesso tempo quanto poi si è impegnata nel sociale, quanto ha fatto per la nostra città, per Roma. Senta, prossimi progetti in cartellone invece, la sua attività credo che non si fermi qui, cioè c'è qualche cosa di nuovo che bolle in pentola? Naturalmente ci sarà da fare il film dai Vergini Agnelli, siamo in procinto anche di montare questo, siamo in procinto di montare per i primi di maggio una mostra fotografica di mie fotografie, che è Franco Angeli, che farà il Comune di Roma, ai Musei Traianezzi, e poi naturalmente una cosa, un impegno che devo sbrigare a mettere su, che è scrivere un nuovo libro per la Mondadori, un libro autobiografico nuovo per la Mondadori, questo dovrò consegnarlo per un compleanno speciale che avrò. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.